Con Elettronica Service, la casa è ai tuoi comandi, servizio chiavi e radiocomandi per auto e cancelli. Elettronica Service, siamo in corso Mazzini 258 a Cava dei Tirreni, nei pressi dello stadio comunale. Seguici anche su Facebook. Un pregiudicato cavese è stato denunciato a piede libero dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Cava dei Tirreni per aver commesso un furto presso la scuola media Balzico di Viale Marconi. L'uomo, con precedenti della stessa natura alle spalle, alle prime luci dell'alba si è introdotto all'interno dell'istituto scolastico metelliano riuscendo a portare via due televisori, materiale scolastico e scassinato alcuni distributori. Immediatamente scattato l'allarme sul posto sono intervenuti agenti della polizia scientifica che hanno visionato le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza dalle quali è stato identificato l'uomo. Nel corso della perquisizione domiciliare i poliziotti diretti dal vicequestore aggiunto Marzia Morricone hanno rinvenuto la rifurtiva che è stata prontamente restituita alla scuola media Balzico.